Musica Cosa ne pensi del centro commerciale Ascian? Vado spesso a farci le spese, è un ottimo centro commerciale. Hai notato che ci sono stati dei cambiamenti? Sì, hanno aperto delle nuove aree di ristorazione, ho notato sì. Musica Ciao Francesca, stiamo facendo un'intervista da parte del centro commerciale Ascian. Tu lo conosci? Sì, ci sono già stata. Oltre ai 120 negozi, hai provato anche la nostra nuova aree di ristorazione con ristoranti fast food e slow food? No, di solito faccio solo la spesa, non ho ancora avuto modo di mangiare. E come ti sei trovata? Molto bene. Grazie Francesca, torna presto a trovarci. Vieni da Osha! Ciao Osha! Vieni da Osha! Vieni da Osha! Ciao Osha! Osha! Sì! Sì! Sì!